Tutto è pronto per la visita di Papa Francesco. L'attesa è finita e il pontefice domani mattina atterrerà con l'elicottero al piazzale dello stadio Gran Sasso per recarsi alle 8.45 in Piazza Duomo e di incontrare i familiari delle vittime del sisma, ma anche i detenuti delle carceri abruzzesi. Poi una breve visita alla cattedrale di San Massimo non ancora ricostruita. Entro le 7.45 le persone dovranno entrare nei varchi organizzati nel piano di sicurezza per posizionarsi o a Piazza Duomo a Colle Maggio per chi ha i biglietti. Nei giorni scorsi anche l'appello del questore De Simona ad arrivare puntuali e a rispettare gli orari indicati. La stampa accreditata è molto numerosa, l'evento del resto è di portata mondiale. È tutto pronto, si stanno ultimando gli ultimi dettagli, si stanno definendo, però diciamo che siamo arrivati all'evento tanto atteso, un evento storico, come è stato detto, che vedrà anche quasi 300 operatori della comunicazione che seguiranno l'evento, più di 70 testate, quindi l'Aquila veramente anche grazie ai mezzi di comunicazione, oltre che ovviamente in primis alla presenza del Papa che richiama tutta questa attenzione attorno all'Aquila, veramente sarà il centro del mondo. Il Pontefice con la Papa Mobile poi attraverserà il viale di Colle Maggio per arrivare alla Basilica, qui non sono necessari i biglietti. Alle 10, Messa e Angelus, poi l'apertura della Porta Santa e verso le 13 dovrebbe concludersi la sua visita, centro blindato ovviamente inaccessibile alle auto, negozi chiusi nel perimetro della visita, ci saranno aree, parcheggi e bus navetta. A Colle Maggio intanto, dinanzi alla Basilica, tutto è pronto, si è lavorato molto in questi mesi e in questi ultimi giorni soprattutto per predisporre tutto, palco montato e anche gli arredi papali per accogliere Papa Francesco nel più degno dei modi. Arredi realizzati da un'azienda aquilana resteranno a Colle Maggio poi, una volta passata alla visita del Santo Padre.